Sono 172 milioni di euro stanziati dall'assessorato regionale alle attività produttive, turismo e beni culturali presieduto da Daniele Damario per far fronte all'emergenza partita nel 2020. Questa mattina, assieme ai vertici del partito, l'assessore di Forza Italia ha voluto illustrare più nel dettaglio le misure messe in campo per aiutare imprese e cittadini. Oggi comunichiamo ciò che è stato messo in campo dall'assessorato sviluppo economico, turismo e cultura negli ultimi 18 mesi. Abbiamo messo sul campo circa 172 milioni di euro a disposizione delle imprese, dei cittadini abruzzesi, compresi sono ristori, sono contributi, parte in esecuzione di leggi regionali, parte in esecuzione di fondi statali che noi abbiamo messo a bando, abbiamo messo a disposizione delle imprese abruzzesi. Per quanto riguarda il quadro economico di regione Abruzzo dobbiamo dire che la regione Abruzzo oggi tiene botta soprattutto con le grandi imprese, abbiamo notizie importanti anche per quanto riguarda l'automotive, soprattutto per quanto riguarda il gruppo Stellantis e quindi parliamo di Sevel. Quindi diciamo che nel complesso l'economia abruzzese tiene soprattutto per quanto riguarda la grande industria. Abbiamo qualche piccolo problema per quanto riguarda le micro imprese e sulle micro imprese sarà importante uno sforzo con la nuova programmazione 21-27 che mette sul piatto circa 380 milioni di euro per le imprese. Un applauso al lavoro di Damario e dei consiglieri di Forza Italia è arrivato dal senatore e coordinatore del partito, Nazario Pagano. Daniele Damario secondo me ha fatto un ottimo lavoro, oggi finalmente ne dà comunicazione ai cittadini abruzzesi perché per la politica è fondamentale far sapere soprattutto ai cittadini quel che si sta facendo, non sempre questo viene percepito soprattutto quando si tratta di enti di livello sovracomunale perché poi i cittadini magari si rendono conto di quel che accade nella propria città ma nella regione un po' meno. Quindi oggi si fa il resoconto di quanto è stato fatto, di quanto la pandemia ha certamente contribuito a creare dei problemi ma di quanto anche l'assessorato regionale al turismo e all'attività produttiva ha fatto per venire fuori da una situazione oggettivamente complicata. Certo non ci voleva anche questo problema della guerra che ha fatto levitare soprattutto i costi dell'energia, di gas e petrolio questo naturalmente comporta una serie di altri problemi di livello nazionale e internazionale che però hanno una ricaduta anche in regione ma io credo che quello che è stato fatto è molto positivo. Grazie a tutti.